Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video, prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch, il link che trovate qui sotto in descrizione Ragazzi, è uscita questa clip sull'episodio di domani dove vedremo Shulk insieme a Daredevil quindi confermato che sarà negli ultimi due episodi, io ve lo deico da qualche puntata ormai ma voi non mi fidate però adesso è stato tutto confermato, 46 secondi di clip, via! Ah, ma è lui agganciato alla macchina? Uuuuh Vabbè, ma i movimenti di Daredevil sono fighissimi Ma vabbè, ma è fighissimo! Cioè, ragazzi, i livelli, adesso ho un vuoto di memoria ma non mi pare che nella run di Netflix si muovesse così o magari ricordo male, però sembra molto figo, non c'è scontro ovviamente tra Shulk e Daredevil in questa clip non credo che si scontreranno se non magari due o tre pugni più avanti all'interno dell'episodio poi ovviamente faranno il team up, però molto molto figo, non vedo l'ora di vederlo domani io ve l'avevo detto che le ultime due puntate sarebbero state belle cariche è uscita ora ora un'altra clip? Dobbiamo vederla subito! Ragazzi, spero che questa reaction vi sia un piacere e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!